ciao a tutti ragazzi io sono davide benvenuti sul mio canale youtube oggi vedremo insieme quali sono i vantaggi gli svantaggi i diversi comportamenti ad avere sui nostri quad la direzione delle nostre eliche in quindi il comportamento standard oppure impostarli out quindi dalla parte opposta la cosa che mi interessa di più è analizzare se ci sono effettivamente dei cambiamenti nelle dinamiche di volo vi lascio pure un piccolo tutorial che vi fa vedere come andare a modificare facilmente velocemente la rotazione delle nostre eliche con betaflight sedetevi a me gli occhi perché si inizia quando diciamo props in quindi rotazione delle eliche all'interno è la classica configurazione di default cioè le eliche vanno a ruotare quelle davanti verso la nostra action cam o fpv cam qui sotto e quelle di dietro vanno a ruotare internamente verso la parte posteriore del quad props out vuol dire il contrario quindi le eliche come vedete su questo quad vanno a girare dalla parte opposta quindi ruotano verso le nostre schede che stanno qui all'interno del drone anche la parte posteriore girerà con questa rotazione qui nel caso di un impatto con un oggetto per esempio questo è il nostro oggetto che si avvicina al nostro quad se ho la direzione delle eliche in quindi quella di default vedete che l'oggetto viene spinto verso l'interno del quad e potrebbe bloccarsi qui dentro vedete ho più possibilità che quando colpiscono oggetto il quad si destabilizza casca a terra oppure se entro per sbaglio dentro un albero ho un'altra probabilità che le eliche ruotando in questo modo si incastrino dentro i rami se utilizzo il flip over after crash o il turtle mode le eliche si muoveranno al contrario quindi se sono bloccato in questo modo muovendosi al contrario il quad tenderà con più facilità a scastrarsi dai rami a ricadere in terra quindi lo potete facilmente recuperare nel caso di rotazione props out se io vado addosso ad un oggetto la rotazione dell'elica andando in questo modo che tenderà a spostarlo quindi in genere se l'oggetto è solito che succede il quad sbatte e con questa botta qui praticamente si scastra se poi mi vado a incastrare dentro un albero è chiaro che pure in questo caso potrò utilizzare il flip over after crash che però farà girare le eliche dalla parte opposta perché questo è il mio quad con props out quindi gireranno props in ok in base a come lo voglio far funzionare eppure qui è molto situazionale il caso che poi alla fine il quad si sblocchi e caschi a terra con il mio quad con props in se vado raso erba quindi colpisco l'erbaccia con le eliche e di solito l'erbaccia viene tagliata con il props in le eliche sparano l'erba proprio dritta sulle fpv cam vedete girando così l'erba viene sparata proprio sulle fpv cam quindi ho molte più probabilità di sporcare l'erba fpv cam nel caso della rotazione out se vado a raso erba e taglio l'erba vedete che l'elica non la spara più sulla nostra fpv cam ma attenzione attenzione la spara qui dentro lo stack quindi andate a sporcare molto di più questa parte eppure qui state molto attenti perché in rari casi è successo pure che quando volate d'inverno o di mattina presto con l'erba bagnata l'erba bagnata potrebbe anche andare a causare dei cortocircuti se siete molto sfortunati vediamo adesso invece che cosa succede con le dinamiche di volo quando un quad si muove sui suoi assi quando rollo verso sinistra i motori che si sovraccaricano sono questi di destra che devono spingere di più e questi di sinistra che devono spingere di meno non abbiamo nessuna differenza con il props out perché anche in questo caso quando vado a rollare verso sinistra si sovraccaricano di più questi due motori e meno questi due motori quando vado a rollare verso destra si sovraccaricano di più questi motori e meno questi motori quindi sull'asse del roll non ho differenze stessa cosa sul pitch se vado a pitchare in questo modo vado a sovraccaricare aumentare la rotazione dei motori di dietro e meno quelli davanti viceversa se vado a pitchare così vado a sovraccaricare i motori davanti e meno quelli di dietro anche in questo caso non ho nessuna differenza utilizzando la rotazione out se vado a pitchare così sovraccarico sempre questi due motori di dietro se vado a pitchare in questo modo vado a aumentare la potenza di quelli davanti e meno quelli di dietro stesso identico comportamento con i props di default quindi props in quando vado a effettuare uno yo verso sinistra aumentano di potenza i due motori con le eliche che girano dalla parte opposta se eseguo uno spostamento sullo yo in senso anti orario aumenteranno di potenza questi due motori che girano dalla parte opposta quindi in senso orario viceversa vado a fare uno yo verso destra aumenteranno di potenza questi due motori qua che ruotano in senso anti orario in genere il quad è sempre orientato in questo modo quindi già i motori che stanno lavorando sono già questi due di dietro e se vado a effettuare uno yo verso sinistra ok di solito in una curva coordinata devo andare ad aggiungere anche un po di roll ok quindi vedete che in questo modo i motori che stanno lavorando secondo quello che vi ho detto sono essendo inclinato sull'asse del pitch questi due di dietro stanno lavorando di più essendo inclinato sull'asse del roll questi due in particolare questo sta lavorando parecchio perché sta così se vado pure a effettuare lo yo vi ho detto che se giro a sinistra lavorano questi due motori qua che ruotano in senso opposto alla direzione dove sto andando il motore che si sta sovraccaricando di più è proprio questo qui perché qui deve gestire sia il pitch sia il roll sia lo yo ecco perché quando avete uno stile che girate sempre da questa parte fate roll sempre così quando atterrate in genere questo è il motore che scalda di più quando effettuo uno io verso sinistra con la rotazione delle eliche auto se giro in questo modo sono sempre i motori che ruotano dalla parte opposta che devono aumentare di potenza quindi se io giro così i motori che aumentano di potenza sono questi due perché vedete ruotano dalla parte opposta stessa cosa se giro di qua sono questi due che ruotano dalla parte opposta che aumentano di potenza il mio quad è orientato così quindi stanno lavorando questi due motori quando effetto una curva in questo senso qui quindi devo aggiungere roll quindi mi sta lavorando questo motore qui e aggiungo yo vedete che i motori che stanno lavorando per aggiungere la componente di rotazione sull'asse dello yo sono questo e questo ok quindi vedete che non c'è più un totale sovraccarico su questo motore come abbiamo visto con la rotazione props in perché per girare così non devo utilizzare questi due motori qua ma per effettuare uno yo così si utilizzano questi due motori qui quindi questo motore qua deve gestire soltanto il pitch e il roll ma per lo yo lavora questo qui non più questo e sulla carta e sulla teoria se c'è un comportamento lineare vedi cruising vedi long range o sto facendo un percorso a bomba una linea bomba sempre davanti a me il props out è meglio perché sovraccarica meno i motori vediamo che cosa succede a livello di flussi d'aria che cosa si intende per un flusso d'aria pulito quindi vuol dire che facilita il volo e un flusso d'aria sporco vuol dire quell'aria che contrasta la direzione del nostro quad e quindi può provocare prop wash oscillazioni vibrazioni eccetera considerando che il mio quad sta andando in questa direzione e io ho le eliche che in questo caso sono props in vedete che il flusso d'aria che viene di qua è un flusso d'aria pulito perché accompagna la rotazione delle eliche ma l'aria esterna va contro la direzione delle eliche perché l'aria viene così le eliche vanno in questa direzione e contrastano quindi con props in la parte davanti ha un flusso d'aria sporco qui sull'esterno ok e quindi l'aria sporca arriverà ai motori di dietro stessa cosa qui dietro se c'è all'aria pulita che entra qui dentro le eliche girando così vanno a contrastare l'aria pulita e quindi si crea aria sporca quindi aria che potrebbe creare vibrazioni sia qui dietro sui motori di dietro ok sia qui sulla parte laterale e soprattutto qua dietro quindi i motori di dietro sono completamente soggetti ad aria sporca quindi devono fare bella fatica per governare le vibrazioni props out giro così quindi l'esterno è completamente pulito l'interno qui dentro si crea aria sporca che si crea qui dietro i motori girano in questa direzione qui quindi si crea aria sporca sull'esterno e aria pulita sull'interno l'area che arriva sporca qui dietro viene gestita in modo pulito ok dai nostri motori che la sparano via quindi non vengono sovraccaricati vedete il flusso è proprio qui vedete arriva così e se ne va via l'esterno che è aria pulita arriva pulita qui dietro i motori girando in questo modo si beccano il flusso d'aria contrastante all'esterno e generano aria sporca dietro ma dietro non c'è niente quindi effettivamente anche sulla carta per quanto riguarda il governo dell'aria pulita e di aria sporca props out è meglio ovviamente sempre considerando che seguite sempre linee frontali a voi dinamica di volo che dobbiamo fare props in o props out prima di trarre le nostre conclusioni ragazzi andiamolo a testare sul campo bene ragazzi qui sto volando con il mio quad sul quale ho configurato la rotazione delle eliche in quindi la configurazione di default questo è il quad che utilizzo tutti i santi giorni quindi bene o male la configurazione che conosco bene però adesso sto cercando di memorizzare bene il suo comportamento in volo con linee veloci come reagisce alle curve perché dopo dovrò metterlo a confronto immediatamente con la rotazione delle eliche out adesso mettiamo a paragone questo stesso identico quad stessa elettronica stessi motori stessi mid ma andando a modificare solamente la rotazione delle eliche da in a out qui sto volando con lo stesso quad con la rotazione delle props out sto cercando insomma di replicare alcuni comportamenti in volo che ho fatto proprio poco prima non vedo tante differenze tra la gestione della gravità quando lo sparo in aria nella gestione dei trick forse un leggerissimo quasi impercettibile miglioramento quando vado a effettuare delle curve veloci cioè sento che mi viene dietro mi reagisce leggermente meglio ma la cosa ragazzi che mi stupisce fin da subito fin da quando inizio a aggiungere del gas con la mia radio è il suono dei motori cioè lo stesso quad stessi mid ho soltanto cambiato la rotazione delle eliche ragazzi ha un suono dei motori completamente differente mettiamoli a paragoni il suono del props in con il suono dei props out avete visto che differenza sembrano dei quad completamente differenti sembra che ho cambiato i motori invece non è così sebbene non c'è tanta differenza in freestyle perché praticamente sono pressoché identici c'è un leggerissimo miglioramento se fate delle linee frontali però con i motori la differenza l'ho sentita i motori sono sicuramente più smooth hanno un suono più pulito probabilmente avrete anche più efficienza perché i motori sovraccaricando di meno consumano anche di meno per cambiare il verso di rotazione dei nostri motori bisogna intervenire sia andando a modificare la rotazione di ogni singolo motore accedendo ai nostri ESC sia andando a cercare un particolare flag all'interno di Betaflight oltre a questo ovviamente va cambiato l'orientamento delle eliche la parte dell'elica che tende ad andare in diagonale verso l'alto deve come regola sempre seguire la rotazione del motore in questo caso quest'elica è montata per ruotare in questo modo qui togliamo tutte e quattro le eliche al nostro quad colleghiamo la lipo altrimenti non riusciremo ad accedere ai nostri ESC colleghiamo il cavo usb al nostro pc apriamo bl eli suite 32 selezioniamo la com relativa al nostro pc e ci connettiamo ai nostri ESC premiamo il pulsante red setup verifichiamo se tutto quanto ok premiamo ok e ci prepariamo a cambiare la direzione dei nostri motori in basso abbiamo la numerazione dei nostri motori da 1 a 4 li selezioniamo 1 ad 1 e di solito faccio così per sicurezza e andiamo a cambiare la direzione di rotazione del motore passando da 1 all'altro quindi faremo prima sul motore 1 poi sul 2 poi sul 3 e poi sul 4 finché tutte quante quattro le direzioni saranno al contrario di come ce l'avevamo quindi se c'ho il normale dovrò ammettere il reverse head se c'ho il reverse head dovrò ammettere normale quindi scelgo la direzione che voglio a quel punto verifico se tutti e quattro i motori sono hanno cambiato effettivamente la direzione ok li riverifico 1 ad 1 se va tutto quanto bene premo disconnect il mio flight controller si riavvia e di solito per sicurezza stacco e riattacco la lipo in modo tale da risentire la tipica musichetta degli ESC dei motori e valutare se è tutto quanto ok a quel punto faccio un ennesimo check mi riconnetto a bl eli suite 32 e verifico nuovamente se tutti e quattro i motori hanno la direzione voluta apriamo betaflight ci connettiamo alla com di riferimento del nostro fc premiamo connect selezioniamo la tab configuration ok in alta a sinistra abbiamo lo schema di rotazione dei nostri motori devo andare ad abilitare questa check qui che abilita comunica a betaflight che i nostri motori gireranno in senso contrario a questo punto di solito io faccio un ulteriore verifica accedendo alla tab motori di betaflight e e andando ad azionare tutti e quattro i motori verifico se effettivamente la rotazione corrisponde al grafico che avete visto prima nella tab configuration allora ragazzi a livello di trick di flow di versatilità in aria di reazione eccetera non è che ho visto tutta quanta questa differenza se iniziamo a fare delle linee abbastanza dritte senza trick dove facciamo inversione di marcia andiamo indietro rolliamo flippiamo eccetera quindi diciamo con una mentalità più di racing in testa quindi vado sempre dritto veloce davanti a me probabilmente la rotazione delle eliche out è meglio perché quando andiamo a fare quelle curve strette veloci due cambiamenti direzione ma sempre andando avanti a noi una leggera differenza e un leggero miglioramento l'ho effettivamente notato si ottiene un miglioramento anche nel sovraccarico dei motori cioè i motori faticano di meno il suono è più pulito si sente che filano più lisci e effettivamente a fine volo se vado a toccare la temperatura dei motori è tutta omogenea se fate cruising se fate cinematic quindi ragazzi sono tutte quante linee in cui il quad va sempre davanti a voi sicuramente impostare la direzione delle eliche out secondo me è meglio ok perché effettivamente il quad vola più pulito i motori si sovraccaricano di meno il flusso d'aria che entra all'interno delle nostre eliche per la maggior parte è sempre un flusso d'aria pulito e quindi soffriamo pure meno oscillazioni meno vibrazioni e quindi vuol dire un filmato hd più pulito per tutto il resto quindi vedi che ne so vado addosso agli oggetti taglio l'erba in modalità taglia erba vedi che finisco sull'albero e devo utilizzare il flip over after crash o il turtle mode quello è tutto situazionale pensateci pensate al tipo di volo che andate a fare a dove vi trovate se vi conviene un caso o l'altro c'è da dire pure per esempio che se casco sull'erba bagnata voglio utilizzare il flip over after crash se ho le eliche out quindi flip over after crash mi fa girare le eliche verso la telecamera quando il quad si va a rigirare taglia l'erba e la spara e vi sporca l'fpv cam quindi poi alla fine comunque dovete andare a dargli una pulita dipende da voi da come preferite per questo video è tutto ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti se utilizzate props in o props out e soprattutto se avete delle domande scrivetemene sempre qui sotto perché come ho tempo cercherò di rispondere a tutti quanti props in o props out ragazzi ma chi se ne frega l'importante è come sempre divertirsi e dai yeah